Per il programma di questa serata presenteremo la favola di Capucetto Rosso. 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 Ma hai toccato il video da tua nonna? Il fondo al bosco! Da quella parte di là? Sì! Vai, vai, che brava bambina! Vai, vai! Vai a tua nonna e fa attenzione perché il bosco è un posto pericoloso! Grazie!